... Barge, siccome non rivolgo la parola a Lisa, ti dispiace chiederle di passarmi la salsa per voi? Ah, per favore Lisa, passa la salsa tua. Conto su di voi? Allora signori, Edo, grande serietà e silenzio perché questa domanda vale 70.000 euro. Già in piedi, ma con quella felina. Baronesa, copritevi o sarete voi a prendervi un malanno. Io, come potete vedere, sto bene. Che volete, che volete che l'ha baronesa già prima, non ci stai pagando. Figurandoci moca, sei una murata pazza. Ecco, perché il capitano, moglie o non moglie, era diventato il prigioniero d'amore d'Argenzia. Avete ragione. Il corso è sessore. Mantiene la legittimazione del reno. Ciao, bravo, ma che con legittimazione dovrà parlare? No! E allora noi siamo! Questi sono! Sono struts! Questo fa un arcire, non lo sai da niente! Finché però, cavolo, non saprà ascoltare chi dice il vero, rimarrà sempre ingannato. Un generale fucilato senza processo. Che bella giustizia. E lì seppe anche che qualcun altro sotto tortura aveva sfiffarato ai piemontesi che quel prete... tanto prete non era. Voi siete stato ferito mentre uccidevate, saccheggiavate d'altro! Non ho mai fatto parte del vostro esercito piemontese. Come lo sapete? Ora... Non volendo, ho contribuito a recare tanto danno degli agenti. Sognavo la Costituzione, l'Italia Unita. E mi trovo invece sottopadrita. Memento. Memento. Dominque. La mamma diุ ha ha parlato dall'animao. Non ho miło parla. No ho skymi tutto. La cosa. La dir到 droga e la la, la te sapete. Non ho buona, non ho maiuri.